Quando qualcuno ruba a Langley, ai piani alti si preoccupano. E allora mi chiamano. Sono quello che va dove gli altri non possono. Sono quello che oltrepasserà ogni limite. Sono quello che possono rinnegare e dare per morto. E sono quello che risolve i loro problemi in modo rapido. Ho seguito il mio bersaglio fino in Bolivia. Intende vendere i nostri segreti al cartello della droga a Santa Blanca. Sono da solo, senza la mia squadra. Ma per fortuna ho alcuni vecchi amici in zona. Bene, Ghost. Qui è Sam Fisher. Andiamo a fare un giro. 角 Realm Greco Greco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.